È stata l'occasione per visitare gli impianti sportivi del capoluogo siciliano e per confermare il pieno sostegno del governo ai progetti delle amministrazioni locali. Ma non solo. La presenza a Palermo del ministro dello sport Andrea Bodi è stata utile anche per illustrare il contenuto dei correttivi alla legge 86-2019 sulla riforma dello sport. Lo ha fatto nel corso del dibattito organizzato da Fratelli d'Italia al Golf Club alla presenza del coordinatore provinciale del partito Raul Russo, del vice sindaco Carolina Varchi e degli assessori regionali allo sport Elvira Mata e ai beni culturali Francesco Scarpinato. Viene data dignità al lavoro, vengono riconosciuti i diritti dei lavoratori che fino ad oggi comunque hanno avuto un trattamento stabilito ma certamente senza le garanzie e soprattutto dal puntista previdenziale. Come tutte le riforme epocali, perché lo è effettivamente epocale, avrà una fase di attuazione, io lo chiamo rilascio progressivo perché credo che questa riforma viva nell'equilibrio tra i diritti di chi lavora e gli obblighi dei datori di lavoro che troveranno anche misure di sollievo dal punto di vista della burocrazia, degli adempimenti e sarà un anno di assestamento. Peraltro abbiamo previsto insieme al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che è coproponente la creazione di un osservatorio permanente che consente di misurare gli effetti di questa riforma per eventualmente apportare delle modifiche proprio nel 2023 perché sarà un anno di assestamento dove saranno previsti anche dei controlli ma non sono previste sanzioni fino al 31 ottobre con le prime comunicazioni dopo la firma dei contratti al 30 del mese successivo quindi c'è un atterraggio molto più morbido sugli adempimenti nei confronti del centro per l'impiego e anche una comunicazione al Libro Unico del Lavoro entro la fine dell'anno. In questo governo, il governo Giorgio Meloni ha messo lo sport tra le sue priorità la nomina al Ministro Abbotti che viene proprio dall'esperienza diretta presente di lei che è già presidente del credito sportivo dimostra che abbiamo voluto mettere la procedura assolutamente competente a gestire un passaggio molto delicato che si propone di dare maggiore efficienza al settore dello sport ma anche e soprattutto una maggiore attenzione soprattutto nell'ottica di costruire un sistema sportivo che favorisca il rilancio dei nostri movimenti atletici dei nostri movimenti di società, dei ragazzi, degli atleti ma anche una maggiore capacità di proiezione sociale. E poi i punti fondamentali su cui intervenire per restituire alla città di Palermo una impiantistica sportiva degna della quinta città d'Italia. Siamo convinti che a Palermo sia possibile creare una città a misura di sportivi le aree fitness, i playground e interventi sugli impianti quegli impianti che dovranno accogliere l'impegno di tantissimi giovani. Siamo convinti che lo sport sia enormemente salutare siamo convinti che lo sport sia vitale per questo noi faremo in modo in sinergia con il Governo nazionale oggi autorevolmente rappresentato dal Ministro Abodi che tutti i nostri sogni diventino realtà a partire dallo stadio e continuando per tutti gli impianti sportivi degni della quinta città d'Italia senza ovviamente dimenticare gli altri quartieri della città. Noi abbiamo già un'idea chiara di quella che è l'impiantistica siciliana che ha necessità di essere ristrutturata e rivista. Ogni comune ha presentato almeno un progetto. A questo scopo aspettiamo i fondi FSC 21-27 diventerà fondamentale perché senza risorse è chiaro che non andiamo da nessuna parte ma il lavoro nostro lo abbiamo già predisposto. Assessore, sport e cultura da sempre camminano insieme e lo sport è un valore culturale soprattutto in una terra come la nostra che può essere in qualche modo l'appiglio per tanti giovani proprio per prendere la strada giusta. Assolutamente sì, lo sport è sempre stato secondo me un elemento fondamentale e fondante proprio per quei giovani tant'è che Palermo ha dimostrato negli anni di essere sempre presente e sensibile alla cultura dello sport. Sport anche inteso a 360 gradi. Noi poco fa il ministro recitava sostanzialmente il lavoro che fanno le sovrintendenze c'è un lavoro importante da porre in essere rispetto agli impianti sportivi e le sovrintendenze che ovviamente sono sotto l'assessorato ai beni culturali hanno già una visione di ampio respiro rispetto a quello che era nel passato e che dovrà diventare futuro proprio per le nuove generazioni e soprattutto al servizio dello sport.